Salamati un po' salamati un domandolo Ancora, ammiglia, come recuperi Ancora, ammiglia, ammiglia Ancora, ammiglia Ancora, ammiglia Grazie, salamati un po' salita Mamma, mamma Non si può In verità, si vuole aggiungere qualcosa Su quello che ha fatto Su marito Viva il maracchiano Ancora, ammiglia Ano nato po sa Sigurian po tayo Pagkakataon Ang kakakalahon Ang sapi yung mga dumalo dito Maraming maraming po' salamat Sino, aking maramay At kaibigan po Maraming po' salamat sa inyo Ito po'y natumahin Maraming po' salamat Ating Maribelna Maraming po' salamat Pagkakataon ma parte di parte del nostro, che è molto importante, e che il loro è molto importante, ma come si è un'amorso? E'er un'amorso? Hai ragione di loro? O, come solo, e'er un'amorso? Ma, è una cosa che si sono. perché sono un'amorso di tutti quanti, è un'amorso. Ci sono molto più, Sì, siamo arrivati a tutti i nostri amici, quindi siamo arrivati a tutti i nostri amici, perché non è una parte di voi, non è una parte di voi. E ora, la mia request è la presenza di Mama Rose Lanzanga. Sì, siamo arrivati a tutti i nostri amici. 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 Sì, siamo arrivati a tutti. Sì, siamo arrivati. Sì, siamo arrivati a tutti i nostri amici. 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 Iniziamo a divertirsi. Grazie, Marielle. Allora, a questo punto, prima di essere a tutti quanti. I'm requesting everyone to raise their glasses. Ano man po, alamano dito? Let's have our first residency for the event of our event. It's one calorie, Dal. Papa Terry? Dal. Andre, ito mo, ma'y tattin ilalagay ang ating gaso. Oh, ito. Life. Buoy amabili. So, raise your glasses, please. There you are. Ready? La time naman. Salute dalang pamilya Malskeo. So, produco dalang noto deputate, Marguel Malsenon. Cheers! All right! And now, talking potential on prologue. Let's start with the table number one. To get on the stage. Just check your group number two. And you can prepare it, Marguel Malsenon. Come on, come on, Marguel Malsenon. Our bouquet prepared by Amu Shai Catering. I'm ready, ready now for us. I'm Jo Marie. So, magas na-guna, sa mamagula, or si Marguel Malsenon. Marguel Malsenon. Okay, Sika. You can roam around your guests. Sama yung nana, Marguel Malsenon. Sama yung nana, Marguel Malsenon. Marguel Malsenon. Marguel Malsenon. And friends, and relatives. Hi, Marguel Malsenon. Si, qui sono qui... Qui è il nostro... Il nostro canale è il nostro canale. I ammissi di un canale, il nostro canale di un canale, il canale di un canale, il canale e un canale, per il canale, che non si può essere approbile. All right? Si, abbiamo il canale di un canale, è buono. fredda ready i ammari i ammari e chiam chiam uvacchi don't be serious bulla night is too short enjoy it thank you so much we're all in up so tipo numero 1 grab your plates come for the extra come inizia il piano tipo numero 2 are you ready? tipo numero 2 tabolo numero 2 il mio amore ragazzi controllate il numero del vostro tabolo grazie